Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Deve uscire ora. Al grande fratello questa è la sentenza di Beatrice, Greta e Alessio Ammutoliti. Beatrice fa rumore con le sue parole in giardino, desidera un'eliminazione alla prossima puntata e lo dice chiaramente sapendo che tutti ascoltano. Le opinioni in casa si dividono e le dichiarazioni di Beatrice scatenano polemiche. Greta ascolta in silenzio le parole di Beatrice senza intervenire subito. Un telespettatore riporta su X il desiderio di Beatrice vuole l'eliminazione immediata di una concorrente. Alessio nonostante non concordi sorride alle affermazioni di Beatrice. Falsone spera che Anita non esca per la festa delle donne ma Beatrice è irremovibile. L'attrice non tollera Anita e desidera ardentemente la sua eliminazione dalla casa. Anche altri utenti chiedono l'eliminazione di Anita, criticata assieme ad altri concorrenti. E voi siete d'accordo con Beatrice? Fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.